Finisce 1-1 tra Iesina e Pineto, due squadre che arrivavano il Carotti in un buon momento di forma. Può recriminare una Iesina generosa che dopo essere passata in svantaggio con uno sfortunato autogol ha dapprima trovato il pari e poi si riversata in avanti senza trovare però il colpo vincente. Può cogliere il punto con soddisfazione invece il Pineto che dopo aver subito il pareggio ha avuto il merito di resistere. Discutibile nel complesso la direzione di gara del signor Porchedo di Oristano. Mister Ciampelli nella Iesina conferma il 4-2-3-1 e concede un turno di riposo a Trudo con Cameruccio che torna titolare. 4-3-3 per l'ex di turno Daniela Maulo che deve rinunciare a Ciarcelluti, a Madio e allo squalificato Orlando. Le squadre giocano da subito con buona intensità, le difese non lasciano spazio alle ripartenze e i lanci in avanti per gli attaccanti sono senza fortuna. La Iesina prova a trovare sbocchi sulle fasce laterali mentre gli abruzzesi sono ad immagine e somiglianza del proprio allenatore ovvero ben organizzati e senza fronzoli. Le occasioni da gol latitano e la sensazione è che soltanto un episodio potrà sbloccare la partita. Episodio che arriva al 31esimo del primo tempo. Punizione dubbia sulla tre quarti di sinistra per il Pineto Calcia Marianeschi, forte e teso in aria, sfortunata la deviazione di Cruz Pereira che fa finire la palla nella propria porta. Pineto in vantaggio Davvero sfortunato il centravanti Iesino in questa occasione e Iesina che perde l'imbattibilità interna che durava dal lontano 18 novembre. Il Pineto a questo punto sembra poter gestire e la Iesina subisce un pochino il colpo ma al 38esimo c'è un episodio da Moviola. Su un calcio d'angolo da sinistra va a terra Leonardo Nonni ma per il signor Porchedu non ci sono gli estremi del calcio di rigore. Le immagini evidenziano però una trattenuta continuata e piuttosto evidente sul centrale difensivo Iesino. Si va negli spogliatoi dunque con il vantaggio del Pineto ma nel secondo tempo sarà tutt'altra gara. La Iesina si riorganizza, raccoglie le forze e si mette nella metà campo avversaria. Il primo squillo della ripresa è al nono minuto da Ricci a Villanova che prova ad incrociare in acrobazia ma il tiro non è pericoloso. Il numero 10 Iesino però, ex di turno, a questo punto sale in cattedra e trascina i compagni. Al sedicesimo ancora lui, Marco Villanova dal cuore dell'area sfiora il gol ma la palla finisce di poco a lato. Due minuti dopo arriva il pareggio della Iesina. Kruz viene lanciato in profondità, aspetta il momento giusto e a tu per tu con Shiba lo batte. 1-1 Iesina. I loncelli non rallentano ed anzi aumentano il proprio volume di gioco. Al trentesimo punizione insidiosa dalla distanza di Villanova che non mette la palla in mezzo per i saltatori ma calcia direttamente in porta con la sfera che finisce di poco a lato. Il Pineto sembra all'angolo e la Iesina prova ad approfittarne. Al trentottesimo è Fracassini che chiama Shiba all'intervento importante dopo una bella azione. Dal calcio d'angolo conseguente svetta in alto Leonardo Nonni ma la palla termina alta. Ultima azione al quarantaseiesimo con Marco Villanova ancora su punizione che scalda i guantoni di Shiba. Finisce dunque in pareggio con la Iesina che continua la propria striscia positiva e sembra aver definitivamente trovato i giusti equilibri. Con un po' più di cinismo in area di rigore l'opera sarebbe davvero completa. Il Pineto visto a Iesina non è stato di certo il migliore della stagione ma siamo certi che i biancazzurri lotteranno fino alla fine per un posto nei playoff. Ribadisco il punteggio da Iesina, Iesina, Pineto 1-1.